Lo sapevi che, in Europa, molti giovani si preoccupano per il loro peso e le loro abitudini alimentari. Ansia per il cibo, umore instabile, isolamento sociale, preoccuparsi per il peso e il proprio corpo, abboffarsi e poi vomitare. Questi sono solo alcuni esempi di indizi di un disagio alimentare. Se anche tu sei preoccupato per il tuo peso, la tua linea o le tue abitudini alimentari, contatta ProYout. È facile, gratuito e anonimo. Iscriviti al sito e avrai accesso a informazioni complete e chiare sui disturbi alimentari. Potrai condividere la tua esperienza con altri ragazzi che stanno vivendo la stessa situazione e chattare con uno psicologo che ti può aiutare quando vuoi. Riuscirai a capire meglio te stesso e i tuoi problemi e avrai risposte alle tue domande. Riuscirai a capire meglio te stesso e i tuoi problemi e avrai risposte alle tue domande. Riuscirai a capire meglio te stesso e i tuoi problemi e avrai risposte alle tue domande.